Che cosa è la Black Cat Parade? La Black Cat Parade è una sfilata di gatti neri di Halloween, ma non è una sfilata di gatti neri di Halloween da uccidere. Siamo qui con la vincitrice del gatto che ha vinto la Black Cat Parade a Italia Miniatura e vogliamo sapere qualcosa di più sul suo gatto Omar. Sì, sono molto soddisfatta, sono contenta ovviamente, sapevo di avere un bellissimo gatto, adesso è confermato, però devo ammettere che erano molto belli anche gli altri gatti. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, spero che questa manifestazione aiuti un po' a togliere questo detto cattivo del gatto nero che porta sfiga, un po' questa ignoranza che c'è in giro, che tutta la gente quando vede un gatto nero si spaventa, è semplicemente un gatto di un altro colore, sono comunque bellissimi a mio parere, anche se amo tutti gli altri gatti. Siamo qua con Veronica di Animal Cocktail, l'organizzatrice, anzi direi la presidentessa di giuria della Black Cat Parade. Allora, appunto, siamo qui a Italia Miniatura, la Black Cat Parade è stato un evento dedicato ai gatti neri, hanno partecipato nove gatti insieme ai loro padroni, hanno sfilato, noi della giuria abbiamo dato dei punteggi, io sono presidente della giuria, quindi una bella responsabilità perché il voto valeva doppio, le abbiamo votate in base, non so, alla simpatia, feeling, quel che sia, e niente, ha vinto un gatto di nome Omar, quindi la sua famiglia potrà andare a Cortina per un weekend in un hotel pet friendly, e niente, noi ci saremo anche domani a Riccione, in Viale Ceccarini, e continueremo con altre premiazioni, sempre dei gatti che hanno partecipato oggi, anche altri se volessero partecipare va benissimo, e niente, noi siamo qui, salutiamo tutti, è stato proprio un bel pomeriggio, siamo molto 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 contenti.